La prima partita in casa, quindi c'è grande entusiasmo, grande eccitazione, si sente, quindi è una cosa molto palpabile. Chiaramente noi abbiamo grande voglia di cominciare a avere subito le prime sensazioni positive davanti al nostro pubblico, sapendo che ha speso un credito importante, nel senso che avere 5.000 e passa abbonati non è una cosa che succede tutti i giorni. Quindi sapere che c'è questo sostegno, questo calore, questa eccitazione, questo entusiasmo è qualcosa che ti dà una scarica di adrenalina significativa. Poi dovremo essere molto attenti perché il clima di festa, di entusiasmo non deve lasciarci coinvolgere, nel senso che noi dobbiamo essere invece pronti a fare una normale partita di palacanestro, di un campionato difficile come quello di Serie A, al quale ci siamo riaffacciati sabato scorso nella trasferta di Trento. Quindi sappiamo quali sono le difficoltà, non dobbiamo pensare che questo entusiasmo e questa partecipazione in qualche modo possa condizionarci, nel senso che noi dobbiamo pensare di affrettare le cose. Noi dobbiamo semplicemente giocare una partita di palacanestro contro una squadra molto solida che ha dimostrato di esserlo nel recentissimo passato, quindi con il passaggio del turno ai gironi di Champions League, che è una delle tre manifestazioni europee alle quali partecipano le squadre italiane. Quindi loro sono dentro il processo di partecipazione a questa coppa, nel girone, superando nel qualification round una squadra importante come Saratov, quindi sappiamo che sarà una partita dove noi dovremmo avere tutta la pazienza del mondo. Non dovremmo assolutamente pensare che questo clima di voglia di fare tutto e subito ci debba coinvolgere. anzi, noi dobbiamo essere molto attenti, molto equilibrati, molto razionali, perché poi si tratta invece di giocare una partita che si svilupperà nei 40 minuti e abbiamo visto già la prima giornata di campionato, ha fatto capire quanto la prima giornata in casa possa nascondere delle insidie. Ci sono state già cinque vittorie in trasferta, ci sono state due squadre e una delle quali siamo stati noi che abbiamo dato filo da torcere fino all'ultimo secondo a squadre importanti di questo campionato come Trento e come Avellino, è successo a Reggio Emilia, quindi la prima partita in casa è sempre una partita che nasconde mille insidie, quindi noi dobbiamo esserne molto consapevoli, farci prendere la mano o pensare che la partita si possa chiudere rapidamente o semplicemente facendoci trascinare dall'entusiasmo sarebbe un errore che non dobbiamo commettere e non lo commetteremo. Se volete io vi presento un po' gli avversari perché chiaramente è una squadra molto nuova perché di fatto sono 13 giocatori completamente nuovi, dello scorso anno è rimasto solo Mario Delas che però giocando con 12 giocatori diversi chiaramente è nuovo anche lui. Quindi io vi posso rapidamente dare qualche indicazione che possa servire a vedere poi quello che è il campo di Rai. Intanto ci sono tre giocatori che creano gioco, uno è il playmaker Anghin Azzur, un ragazzo turco che io conosco molto bene perché ha fatto il suo primo anno da rookie con me a Treviso quando lui è uscito da NC State, che è un classico metronomo, cioè un giocatore che tiene in mano il controllo del ritmo della partita, che ama mettere in ritmo i compagni, quindi non il tipico point score ma veramente un playmaker considerato in tutte le sue declinazioni. Gli altri due creatori di gioco sono i due lunghi, che sono due lunghi molto atipici due giocatori che giocano nelle mezze misure e quindi sono due giocatori che proprio per questo diventano difficili da dover limitare. Uno è la loro ala forte titolare che è Damien Inglis un ragazzo francese che è un vero prospetto, è stato seconda scelta con il numero 31 di Milwaukee nel 2015 ha avuto un po' di NBA alle spalle e tanta di league, soprattutto nell'ultima stagione nella franchigia affiliata dei Knicks. È un ragazzo che ha un'esuberanza fisica importante ma sarebbe limitativo pensare solo a quello perché in realtà è un giocatore che è in grado di creare gioco assist man, sia dalla conduzione del contropiede, sia nelle situazioni di post basso dove ama tantissimo riaprire il gioco per mettere i compagni nelle condizioni di prendersi dei tiri aperti e l'altro giocatore che invece ha questa capacità di creare gioco è il loro centro litolare che è Mario Delas che è un ragazzo molto meno maturo di quanto si possa pensare, è del 90 quindi ha 27 anni però è un giocatore che ha un trascorso cestistico di alto livello, è un centro atipico nel senso che è un giocatore che in realtà sa giocare in post alto, nelle zone di mezzo angolo quindi lì è in grado di creare gioco, è un professore da questo punto di vista questi sono i tre creatori di gioco e poi loro sanno alimentarsi soprattutto dalla loro capacità di utilizzare le caratteristiche degli altri giocatori che fanno da contorno a questi che sono i giocatori che creano gioco, intanto Justin Edwards che è un tipico giocatore di tutto campo e uno contro uno che è la loro guardia titolare e poi i due tiratori che si autoalimentano dalla capacità di segnare altri punti uno è Arnold Asculboca, un ragazzo del 98 di grande prospettiva, tanto è vero che credo che dopo un po' di tempo di nuovo al Paladossa ci saranno tanti scout NBA proprio per seguire le gesta di questo giocatore non solo di lui ma anche e soprattutto di lui, un ragazzo del 98 che viene da Bamberg che è in prestito a Capodorlando e sta dimostrando con i fatti di essere un prospetto europeo di alto livello e poi dalla panchina invece Mirzalibegovic che ha altre tante caratteristiche di realizzatore da tre punti poi la panchina è completata da un ragazzo giovane, un ragazzo slovacco, Mario Hiring che è il cambio del playmaker ragazzo del 98 anche lui e poi loro potranno anche fare rotazioni nei loro stranieri perché di fatto hanno nove giocatori stranieri sotto controllo e dovranno sceglierne sette perché queste sono le regole del campionato, sicuramente non giocherà Stojanovic che è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio e quindi poi scopriremo se il settimo straniero sarà Stroutins oppure Ikovliev il cambio dei lunghi è un giocatore molto particolare perché è un giocatore di 2,13-2,14 però con grandi attitudini di far canesso da fuori, sto parlando di Jakub Wojciechowski quindi una squadra che si completa molto con caratteristiche complementari dei suoi vari componenti per essere una squadra così nuova ha dimostrato subito una grande solidità perché è andata a giocare in Russia la partita di gara 1 di qualification round sotto pesantemente nel corso del primo tempo e invece poi è riuscita a perdere la partita se non sbaglio solo di un punto dimostrando di avere doti caratteriali oltre che tecniche per uscire da un campo difficile come quello e noi Saratov l'abbiamo vista dal vivo perché era una delle squadre che aveva partecipato al torneo di Parma che noi abbiamo giocato all'inizio di settembre e poi nella partita di ritorno quella di lunedì le hanno travolti e quindi di fatto si sono conquistati con grande merito un risultato storico che credo per la prima volta una squadra siciliana parteciperà a una competizione internazionale di pallacanestro hanno pagato perché poi giovedì hanno giocato una partita complicata soprattutto dal punto di vista delle energie mentali secondo me perché quando fai due gare di quel tipo lì probabilmente poi giocarne una subito dopo due giorni non era semplice infatti Pistoia è stata brava ad alzare il livello energetico loro hanno fatto fatica a competere da questo punto di vista hanno perso male in casa e quindi di sicuro saranno pronti a volersi riscattare avendo poco da perdere perché verranno a giocare in trasferta e quindi quando si gioca in trasferta di solito i favori del pronostico sono per la squadra di casa tranne rare eccezioni o a volte neanche tanto rare e quindi loro secondo me avranno la predisposizione mentale perfetta perché grande risultato raggiunto una brutta partita in casa quindi la voglia di riscatto non si saranno sicuramente seduti sulle due vittorie di qualification round di Champions League e quindi arriveranno qua agguerriti per mettere in mostra una solidità che ha permesso loro secondo me più ancora della partita di ritorno di qualification round di dimostrare a se stessi di poter essere competitivi recuperando su un campo difficile la prima partita di qualification round non so che tipo di gara avrebbero giocato se fossero usciti da Saratov con una sconfitta molto pesante invece sono usciti da Saratov con una sconfitta che di fatto non era una sconfitta e questo gli ha dato grande benzina per giocare una partita di alto livello nella seconda partita a Capodorlando di Lule D quindi mi aspetto una partita difficile perché loro sono una squadra molto difficile da affrontare perché mi sembra che abbiano già dei punti di riferimento molto chiari e questo li rende sicuramente una squadra molto difficile e molto scorbutica da dover affrontare anche e soprattutto per le caratteristiche di alcuni dei loro giocatori Secondo me conta più la cosa che hai detto prima però poi sai io non alleno Capodorlando quindi non ho in mano la misura di quanto possano essere le energie fisiche di sicuro ecco se avessero vinto di 15 con Pistoia secondo me sarebbero arrivati qua un po' con la pancia piena avendo perso così in casa una partita dove hanno avuto un attimo, un lampo nel quale si sono riavvicinati ma poi in realtà sono stati sempre sotto dal punto di vista delle energie mentali sicuramente gli avrà dato quella carica necessaria per arrivare qua pronti a giocarsela poi quelle che sono le loro energie fisiche restamente io non ho modo di poterlo toccare e le cose che non sono nel mio controllo faccio sempre fatica poi a giudicarle Ma noi punti di riferimento li abbiamo, li abbiamo dimostrati abbiamo tante parti del gioco nelle quali siamo molto avanti non saremmo stati così competitivi a Trento perché poi a Trento ci ricordiamo del modo in cui è finita ma non ci ricordiamo del modo in cui è andata quindi se ci ricordiamo del modo in cui è andata forse diamo una dimensione diversa alla nostra prestazione purtroppo è finita in quel modo una partita che se la giochi dieci volte probabilmente le nove la vinci e invece è stata la decima, quella in cui l'abbiamo persa e ci rimane quel ramarico lì e il fatto di aver dimostrato dei difetti sui quali abbiamo lavorato ma dobbiamo chiaramente continuare a lavorare non è che in una settimana tutto si risolve però io credo che già abbiamo dimostrato un'identità abbiamo dimostrato che quando abbiamo voglia di giocare insieme e siamo spinti a giocare insieme riusciamo a farlo anche avendo giocatori che hanno delle attitudini realizzative di un certo tipo abbiamo capito che la nostra tenuta difensiva è fondamentale per poter avere continuità di rendimento e anche reggere al momento nel quale magari fai meno canestro e queste sono tutte cose che fanno parte di un bagaglio di esperienze che la partita di Trento ci ha portato con sé abbiamo capito quali sono i nostri difetti forse li conoscevamo già e dobbiamo quindi continuare a lavorare nell'ultimo quarto l'idea che ci si è fatti è che nel momento in cui la partita non dico stava sfuggendo di mano ma aveva cambiato il percorso che era stato fino al trentesimo si siano perse un po' quelle cose si sia andato un po' contro il muro uno contro tutti in alcune circostanze e questo succede è certo, questo succede soprattutto perché loro di fatto hanno provato a toglierci un po' la circolazione della palla e di fatto quando ti viene tolta la circolazione della palla la cosa migliore a fare è costringere la difesa a chiudersi e il modo migliore per costringere la difesa a chiudersi è passare la palla ai giocatori che spalle a canestro possono avere dei vantaggi e noi in quel momento avevamo un giocatore che aveva degli oggettivi vantaggi perché contro la loro difesa matchup abbiamo avuto almeno 5-6 possessi nei quali Marcus Lothar giocava contro Silins però poi la palla a Marcus Lothar bisogna dargliela e quindi quando la difesa sta sulle linee di passaggio ti impedisce di giocare le zone di post-alto per chiudere i triangoli e passargli la palla lì le abitudini comuni ti devono poi portare lo stesso giocando senza la palla a riuscire poi a coinvolgere quel giocatore che in quel momento poteva rappresentare per noi una chiave per costringerli a chiudersi questo non è successo e l'abbiamo pagato chiaramente con la sconfitta però non è che l'idea in testa non ci fosse è che poi le idee vanno tradotte nei fatti e tradurre nei fatti significa riuscire a trovare quei canali di coinvolgimento di quel giocatore che in quel momento aveva un oggettivo vantaggio noi avevamo fatto molto poco contro la loro zona ma avevamo ben chiara in testa l'idea che dovessimo mettere la palla sempre dentro il cuore della loro area soprattutto provando a portare il loro centro fuori nell'angolo e questo è successo sei volte mi pare quindi c'era sempre Bihanan che stava marcando un nostro giocatore sul perimetro e c'era sempre Slaughter che era marcato da Seelins quindi capite che erano due oggettive situazioni di mismatch che noi abbiamo creato ripetutamente però poi bisogna avere la forza di concretizzarle bisogna avere la lucidità per farlo bisogna avere anche la condizione per farlo perché poi magari a volte manca anche un po' la condizione fisica per riuscire a chiudere quei vantaggi che la partita in quel momento gli sta dando hai parlato di Slaughter prima hai parlato di creatori di gioco di Capodorlando non solo Playmaker puri anche Slaughter a Trento forse attaccandosi a questo discorso 7 assist è stato pericoloso non solo attaccare il terreno ma soprattutto vedendo il gioco e beccando gli altri sì sai poi i giocatori li conosci meglio quando li alleni quindi vedendolo e conoscendolo meglio si ha la percezione che lui possa essere un creatore di gioco nel gioco dentro fuori e il gioco dentro fuori è una parte fondamentale del gioco di una squadra io diffido molto delle squadre che vincono perché fanno canesso da tre punti secondo me vinci una o due partite perché fai canesso da tre punti la verità è che se vuoi vincere le partite devi riuscire ad avere più punti in area di quelli che possono produrre i tuoi avversari oppure devi giocare contro le strategie degli altri mentre che si chiudono in modo inusuale allora questo può liberare i tiratori in condizione di grande libertà però io credo che l'idea di dover andare dentro l'area non solo con marcus ma anche con kenny che è un giocatore eccellente in post basso ma anche con alessandro con guido con pietro e lo abbiamo fatto costantemente anche nella partita di trento questi sono tre aspetti del gioco che ci dovranno permettere di avere un gioco interno e quel gioco interno sarà poi figlio della capacità di attaccare ma anche di riaprire e direi che in questo abbiamo dimostrato già di avere una discreta cognizione degli spazi da usare sul campo una discreta cognizione delle idee da utilizzare per poter attaccare anche in situazioni di off the ball quindi lontano dalla palla però poi la parte finale della partita ci ha detto che in quel momento e sarebbe stato il momento nel quale avremmo dovuto creare un po' l'apoteosi di quel tipo di gioco non siamo riusciti più ad essere efficienti coinvolgendo dentro l'area i nostri giocatori quindi marcus sicuramente lo ha fatto sapendo che lo ha fatto mi aspetto che gli altri siano molto protettivi in questo e quindi possano prendere delle decisioni strategicamente diverse rispetto a quello che a trento che trento aveva preso e quindi faccio degli esempi raddoppiarlo oppure non raddoppiarlo fatto e provare stare in situazioni di single courage e tutto questo ci dovrà fare quel ci dovrà far fare quel salto ulteriore che ci permetterà di capire che quando lui non è raddoppiato noi dovremo fare alcune cose quando lui è raddoppiato in ogni modo impacchettato dovremo farne altri quindi questo è una parte di quel processo di crescita che riguarda però un giocatore per il quale si pensava magari ad un utilizzo diverso cioè soltanto screen and roll soltanto rimbalzi attacco invece abbiamo imparato a vedere che lui può avere qualità anche in altri aspetti del gioco cioè tipo quello di coinvolgere lo spallacanestro per poi creare situazioni di riapertura incidente stradale bruttissimo arrivata non c'è stata neanche la come si chiama la brava esattamente sotto dove siamo noi un lancio lungo per alessandro alessandro ha preso questa palla in mezzo contropiede la palla stava scappando fuori dal campo quindi lui l'ha controllata in modo quasi sulla punta delle dita per non perderla ha fatto una virata verso il centro claudio era arrivato per raddoppiarlo dal dietro e quindi la testata del diciamo della tempia di alessandro sul naso di claudio alessandro il sopracciglio e claudio si è rotto il naso quindi di fatto non si è sempre allenato mentre claudio ha dovuto fermarsi per ovvi motivi anche perché poi il giorno dopo era san petronio quindi non abbiamo potuto fare la maschera e poi con la maschera cercherà di darci una mano sapendo che la maschera è sempre un elemento di limitazione però intanto ci sarà quello che non ci sarà sarà stefano non sapevate già direi che il suo processo di recupero sta proseguendo seguendo un po le le aspettative adesso ci saranno le valutazioni della prossima settimana per capire se lui potrà pian piano ricominciare per la scuola squadra oppure no questo dipenderà dagli esiti dei controlli che faremo e chiaramente anche dalla risposta il campo ecco però queste sono un po le le due situazioni più scabrose ecco e in relazione a questo secondo me è giusto anche fare una considerazione la partita di trento ci ha messo di fronte all'assenza di stefano in una condizione di super emergenza nel senso non per la sua assenza perché le assenze all'essenza e si compensa sempre ma perché la sua assenza è stata durante l'inno nazionale quindi questo ha fatto sì che la squadra ha di fatto non avesse nessuna percezione del fatto che lui non giocasse quindi io ho immediatamente allertato sia alessandro paiola che guido rosselli perché loro fossero in grado poi di sopperire all'assenza di stefano il dettaglio è che alessandro paiola di fatto aveva giocato nelle nove amichevoli che abbiamo giocato 20 minuti cioè i 20 minuti contro reggio emilia dopo durante i quali poi si è fatto male al ginocchio è stato fuori altri 15 giorni quindi la squadra esagero ma neanche lo conosceva come compagno di squadra che doveva essere il playmaker cioè quello che guidava la squadra in un momento difficile e anche in una partita complicata cioè l'esordio in serie a contro una squadra complicata come trento quindi questo è stata già questo è stato il motivo per il quale io ho scelto di accorciare la rotazione o di utilizzare altri canali per poter attingere al playmaking di fatto guido rosselli alessandro gentile però questa settimana ci è servita per per ale paiola per allenarsi costantemente nel suo ruolo e perché i suoi compagni abbiano la percezione reale di quello che lui possa possa darci quindi ecco che chiaramente da domani la rotazione degli esterni pure in assenza di alessandro di stefano gentile si allarga anche ad ale paiola cosa che non mi sono fidato di fare solo per questo motivo perché di fatto lui per tutto il precampionato non si è quasi mai allenato la scuola squadra perché distruzione alla caviglia nazionale sono fuori all'inizio problemi ai tendini rotulei tutti e due sono fuori per gran parte della prima parte della preparazione infortuni al ginocchio sono fuori altri 15 giorni non era facile prenderlo e buttarlo nell'acqua così a trento anche se poi lui ha la faccia tosta per essere lo stesso efficiente però credo che fosse più un problema di conoscenza dei compagni ai suoi confronti quanto del contrario ecco questa settimana da quel punto di vista da quel punto di vista di ci ha aiutato le proteste le proteste sono proteste poi la scuola fia la scuola fia io non ho visto non ho sentito non ho visto non so se gli ha detto bravo arbitro o qualcosa di diverso quindi onestamente io giudico per quello che sento ecco se il referto arbitrale stabilito che fosse sanzionabile questo è nella nel gioco delle parti ecco così come era giusto secondo me che il club di fronte a quello che alessandro ha detto facesse ricorso perché evidentemente c'erano le condizioni perché dal punto di vista sportivo si potesse tornare indietro su quella decisione non è stato così però onestamente il dettaglio del momento io non ce l'ho perché sono uscito ho visto che c'era un po di di capannello intorno al secondo arbitro mi sono messo in mezzo poi mi sembrava che la cosa fosse finita lì sono andato verso il nostro spogliatoio onestamente non so cosa sia successo dopo però direi sono cose che succedono non c'è stato né spargimento di sangue nient'altro si è beccato una giornata questo non aiuta perché chiaramente in caso in cui dovesse succedere un'altra volta non sarà neanche la penale da pagare però sicuramente luci tiene su questo c'è dubbio non c'è il minimo dubbio e quindi nel momento in cui hai la sensazione di aver subito un piccolo torto poi ognuno può interpretare la cosa nel modo suo a modo suo io ho interpretata dopo la fine della partita ho cercato di farlo in modo molto lucido è chiaro che siamo qui al convento delle orzoline scalze stanno tutti i siti vanno tutti a casa ecco ma io vi posso sintetizzare molto rapidamente noi abbiamo avuto l'autorizzazione fra la fine del torneo di di monti chiari non moncalieri e la prima partita di campionato a diciamo valiare delle opzioni e abbiamo valiato quattro opzioni però di queste quattro opzioni nessuna si è concretizzata per motivazioni differenti quindi adesso dobbiamo continuare questa ricerca sapendo che queste quattro opzioni non sono state disponibili o diciamo non sono stati disponibili o non ci hanno convinto ecco queste sono le cose le cose vere adesso chiaramente va vagliando le situazioni di free agent quindi questo era quello che potevamo controllare adesso sappiamo che potrebbe esserci un mercato che si può aprire con i tagli dai training camp però questo momento vedo delle gran guardie dei gran playmaker quindi non è una roba che ci interessa chiaramente c'è grande attenzione il front office sta affrontando la situazione con tutta l'attenzione del caso però evidentemente quello che abbiamo cioè diciamo le situazioni sulle quali avevamo buttato un occhio per motivi diversi non si sono concretizzate quindi dobbiamo semplicemente andare avanti su questa strada cercando di essere vigili allo stesso tempo cercando di migliorare quello che è migliorabile all'interno di questo gruppo ecco non dobbiamo aspettare nessun messia sappiamo che è nel nostro nella nostra volontà di aggiungere un giocatore ma quello deve essere un buon giocatore un giocatore che dia un valore alla squadra e non deve essere un giocatore noi buttiamo lì perché così siamo tutti contenti ne abbiamo preso uno ecco ne dobbiamo prendere uno che abbia senso prendere indipendentemente poi da quelli possono essere i valori economici deve essere un giocatore che da possa dare realmente una mano a questo gruppo questo gruppo si sta sbattendo e sta lavorando per cercare di essere funzionale anche in questo modo non l'avesse fatto a trento non avremo presi 20 e invece non abbiamo presi 20 siamo stati avanti 30 minuti e ci è rimasta di traverso però succede ce ne abbiamo altre 29 partiamo da domani sera cerchiamo di portare a casa una vittoria per dare una soddisfazione al pubblico ma anche per dare un senso alla bontà di quello che stiamo cercando di fare ho già risposto ho già detto tutto ce l'ho detto che siamo stati immediatamente disponibili a valutare le situazioni quelle situazioni o non ci hanno soddisfatto o non hanno soddisfatto chi noi abbiamo provato ad interpellare quindi tutto quello che succede nel mezzo non te lo so dire cioè non è che c'è un orario nel quale si prende un giocatore dopo l'ora si va a letto insomma noi siamo attenti il front office attento il management attento tra poi dopo ci devono essere ripeto anche le circostanze perché un buon giocatore diventi una vera addizione perché se deve essere solo un modo per di ok adesso adesso ci abbiamo cinque siamo tutti contenti direi che non è che ha molto senso queste cose si fanno per accontentare come posso dire il desiderio di far vedere che così almeno ora siamo a posto invece noi dobbiamo essere a posto neanche dobbiamo soddisfare il nostro desiderio intanto dobbiamo soddisfare il nostro desiderio e quello della nostra gente cercando di portare a casa una vittoria domani che sarà tutt'altro che semplice ok